Questa notte i Vigi del Fuoco hanno lavorato altrimenti per continuare le operazioni di scavo e cercare di salvare un po' di altre persone ancora vive, i conti purtroppo ancora non tornano. Ed è proprio un Vigile del Fuoco, non in servizio, ieri 14 agosto mentre si consumava la tragedia del Ponte Morali a parlare con noi. Si chiama Davide Capello, ha 33 anni e ha vestito i panni del calciatore nella squadra di promozione del Leggino Calcio. Oggi ha cambiato mestiere ma Davide è sopravvissuto al crollo del Ponte mentre le strutture cedevano, facendo un volo di circa 40 metri. Ora in ospedale non ha riportato ferite gravi né contusioni visibili, è però molto provato. Si è accorto subito di quello che stava succedendo, ci può raccontare? Io stavo procedendo sul Ponte quando pioveva, a un certo punto ho sentito un rumore fortissimo, poi davanti a me ho visto le macchine che andavano giù. Mi sono sentito trascinare giù io col Ponte, poi ho fatto un certo settimana, poi ho rovuto la mia macchina, mi ha fermato all'interno di un pilone, mi ha sorretto qualcosa. E' riuscito a uscire dalla macchina, è stata una cosa indescrivibile. Intorno a lei ha visto mentre cadeva altre macchine a cadere? Mi ha visto davanti a me le macchine che cadevano a un ruolo, sembrava la scena di un film apocalittico.